Costruire sul costruito e rivitalizzare il patrimonio immobiliare esistente modificando nella destinazione d'uso. E' questa la filosofia alla base dei condotel che stanno cominciando a prendere piede a Pesaro. Si tratta di alberghi che decidono di non essere più hotel al 100% ma di destinare una consistente percentuale del loro edificio alla realizzazione di appartamenti di civile abitazione. A Pesaro CNA Costruzioni assieme alla rete di professionisti specializzati Eliob Group accompagna gli alberghi in questa pratica che ha visto l'hotel Riva Azzurra di Viale Trieste di zona Levante avviare questa tendenza e ora si appresta a diventare condotel anche l'hotel Caravan all'angolo fra Viale Trento e Viale Monfalcone. Il condotel è partito da una legge nazionale del 2016 la quale dava la possibilità agli alberghi di costruire degli appartamenti all'interno della struttura, non snaturando il concetto d'albergo. La regione Marche, devo dire che con tempestività nel 2019 ha adottato questa legge con una delibera regionale, quindi subito dopo la deliberazione della legge regionale noi come CNA che siamo molti attenti al recupero e alla riqualificazione del costruito. Assieme allo studio Tasini, allo studio Eliob e il geometra Tasini abbiamo iniziato a studiare la normativa sul territorio pesarese. Poi non ultimo, il primo di giugno del 2021 il Comune di Pesaro ha fatto una delibera dove ha attuato i ricondi hotel, quindi siamo già operativi su questa nuova norma urbanistica. come dicevi tu una norma urbanistica è importante perché si costruisce sul costruito, prima di tutto non si consuma territorio ed è una cosa importante. Si riqualificano le vecchie strutture, si adeguano in base anche alle normative sismiche ma soprattutto è un incentivo economico sia per il proprietario ma anche un'opportunità di lavoro per il nostro sistema di imprese perché le nostre imprese del settore delle edilizie che io rappresento dell'impiantistica sono interessate a questo tipo di mercato. È un mercato dove la loro organizzazione di lavoro e il loro sistema produttivo si adatta molto a questo recupero strutturale degli edifici. Ci sono poi alberghi dismessi come l'hotel Sporting che scelgono altre strade come la conversione totale in appartamenti ad uso turistico. Quella del condotel è invece una strada che allinea Pesaro ad una tendenza già diffusa in tante città metropolitane. La percentuale massima di trasformazione dell'attuale struttura ricettiva, quindi albergo, è del 40% in destinazione residenziale. Proprio per permettere di riqualificare comunque anche tramite la potenziale vendita di questi nuovi appartamenti residenziali veri e propri e l'intera struttura proprio nel concetto del costruire sul costruito con una flessibilizzazione della destinazione ricettiva che accoglie anche quella residenziale e quindi la tradizionale ricettività si unisce alla residenza creando una gestione integrata il vero e proprio condotel. Questa flessibilità funzionale della destinazione ricettiva è stata introdotta dalla delibera del Comune di Peso del 1 giugno proprio per raccogliere questo tipo di concetto di valorizzazione delle attuali strutture ricettive esistenti.